Il 17, 18 e 19 maggio Cagli è pronta ad ospitare la 24esima edizione della Festa della Pipa. Attraverso l'organizzazione del Pipa Club Italia, Federazione dei Pipa Club Italiani, al centro della manifestazione ci saranno produttori di pipe, professionisti ed obbisti che sporranno i loro esemplari e incontreranno per due giorni gli amanti del fumo lento, non solo per eccellenze italiane ma anche europee conosciute in tutto il mondo. Come di consueto, l'inaugurazione degli stand è prevista per il sabato mattina alle 10, stand che rimarranno aperti fino alle 19. I produttori torneranno poi a presentare le loro pipe domenica dalle 10 alle 18. Il sabato, attività di approfondimento sulle gare di fumo lento di Pipa con il Gran Garà. Ospite speciale per la prima volta alla Festa della Pipa sarà Savinelli 1876, l'azienda più antica d'Italia del settore che racconterà la pipa italiana nel mondo. Il tutto in un comune di Cagli che predisporrà percorsi artistici e museali, itinerari equestri per grandi bambini, passeggiate culturali con personaggi d'epoca e musica live, con la cena organizzata in piazza a cura della proloco del territorio a base di prodotti tipici. Domenica invece la giornata inizierà con una colazione e degustazione organizzata dal Pipa Club Italia e poi dal pomeriggio lo start del ventesimo trofeo Città di Cagli, gara internazionale di fumo lento. Ospite d'eccezione sarà Andrea Locicero, soprannominato il Barone, conduttore televisivo ed ex reggbista grande appassionato di Pipa.